Sono circa 4.000 le imprese a rischio e usura nell'intera Sicilia. Sono a immediato e grave rischio e usura. E quanto dice il presidente regionale di Confu Commercio Sicilia Gianluca Manenti? L'usura, dice ancora Manenti, rimane purtroppo una tipologia di reato che fatica ad essere denunciato. Piero Giunta, nell'intervista che stiamo per ascoltare, dialoga su questo argomento attraverso i nostri microfoni con il presidente di Confu Commercio Sicilia. Ascoltiamo Gianluca Manenti. Gianluca, Confu Commercio dice che in Sicilia ci sono circa 4.000 imprese a rischio e usura. E allora ti chiedo, da cosa emerge questo rischio? Sono circa 4.000 le imprese a rischio e usura nell'intera Sicilia. Questo dato emerge dall'ufficio Studi di Confu Commercio che è guidato dal direttore Mariano Bella che ha presentato ieri a Roma un'analisi sugli effetti dell'usura nel periodo della pandemia, quindi al tempo del Covid. Per le imprese e la percezione diciamo che le stesse imprese hanno sul fenomeno. Ieri è stata dedicata ai commercianti vittime dell'usura la giornata della legalità, l'ottava edizione che Confu Commercio nazionale dedica per la legalità. Il dato rileva che rispetto al 2019, così come ha spiegato il dottor Bella, è più che raddoppiata la quota di imprenditori che ritiene aumentato il problema e passa da un 27% contro il 12,7%. E sono a immediato e grave rischio e usura circa 4.000 imprese regionali del commercio, della ristorazione e anche dell'alloggio. Il mezzogiorno purtroppo è stato osservato in questa analisi, paga un prezzo più alto e il rischio di chiusura definitiva per le imprese è, riteniamo, maggiore. E per fare un esempio, tra le nuove grandi città italiane colpite dall'usura, come Napoli, Bari e Palermo, sono tra quelle più a rischio. L'usura quindi rimane purtroppo una tipologia di reato che fatica ad essere denunciato. E a frenare la propensione, a denunciare, non è tanto la speranza di poter restituire il prestito, quanto piuttosto la paura di subire delle ritorsioni. E anche la percezione di essere soli, la poca fiducia che si dà nella giustizia e anche la vergogna, diciamo, che caratterizza coloro che in ultima istanza si vedono costretti a rivolgersi agli usurai. Senza misure di contrasto più incisive e una cultura della legalità più diffusa sarà davvero complicato estirpare il fenomeno dell'usura. L'impatto del Covid sull'economia e sulle imprese è stato devastante. I numeri sono impietosi, certificano, danno una certificazione di una situazione disperata, soprattutto in Sicilia, per migliaia di lavoratori e anche per migliaia di imprese. ConfCommercio nel corso di questo anno ha fotografato più volte lo scenario, questo scenario apocalittico che si è venuto a creare, chiedendo a gran voce sostegni e ristori più adeguati per il settore dei servizi, per il turismo, la ristorazione, i trasporti, il commercio in generale, che più di ogni altro, diciamo, questo settore ha pagato dazio all'emergenza coronavirus. Tra le cause principali di questa devastazione economica ci sono certamente la perdita quasi totale del fatturato e di conseguenza anche la crisi di liquidità, a cui poi si devono aggiungere le complicanze burocratiche che già in tempi normali affossano l'attività economica, ma che in una situazione così eccezionale hanno dato il colpo di grazia. Quindi uno scenario desolante al quale purtroppo bisogna aggiungere, diciamo, un altro elemento, anch'esso purtroppo storicamente presente nella vita di chi fa impresa, ma che nell'ultimo anno è emerso con forza che è quella dell'usura. Se ti dico legalità ci piace, tu cosa mi rispondi? Ecco perché proprio al fenomeno dell'usura e del suo impatto sulle imprese del commercio e dei servizi è stata dedicata a questa ottava edizione, Legalità ci piace, una giornata nazionale di confcommercio che è dedicata alla legalità e alla quale ha partecipato, oltre al presidente di confcommercio nazionale Carlo Sangalli, anche il ministro dell'interno Luciana Lamorgese. Carlo Sangalli nel suo intervento ha ribadito il significato di questa giornata che è dedicata alla legalità e che pur, diciamo, in una versione forzatamente digitale continua ad avere come punto di riferimento il tenere alta la guardia sul tema della sicurezza e della legalità. perché, diciamo, legalità e sicurezza sono una precondizione di normalità. Il presidente Sangalli ha ringraziato il ministro Lamorgese per la sua presenza, anche dal punto di vista fisico, ha ribadito l'impegno di confcommercio soprattutto sulle riaperture. Normalità significa, così come ha detto il presidente Sangalli, innanzitutto poter lavorare, poter riaprire. Questo stiamo chiedendo al governo, alle istituzioni, con proposte puntuali nelle misure di sostegno e di messa in sicurezza con un lavoro, diciamo, assiduo sui provvedimenti governativi e in Parlamento. Così come il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, che è intervenuta ringraziando il presidente Sangalli per l'impegno a favore della diffusione della cultura della legalità, ricordando anche la sinergia con confcommercio nella lotta alla criminalità. La stessa ministra ha detto che questa è un'occasione importante di riflessione su temi essenziali per poter rilanciare il tessuto produttivo e anche per le aperture dei prossimi giorni possono rappresentare un volano per il rilancio delle imprese. La ministra Lamorgese ha confermato che il coronavirus ha inciso sulla crescita dei fenomeni come l'usura è necessario da parte di tutti, ha detto il ministro, impegnarsi per combattere questo fenomeno e la denuncia è un elemento molto importante. Il ministero dell'interno si sta impegnando sul territorio con le prefetture per raccogliere le istanze che provengono dal territorio. E Confcommercio Sicilia ha voluto dedicare questa edizione della giornata della legalità agli imprenditori vittime di usura. Abbiamo ribadito che saremo al loro fianco e che li sosterremo in questa battaglia ancora più dura rispetto al passato perché occorrerà eliminare anche i danni causati dalla pandemia. e tutti sappiamo certamente che non sarà facile. Ringrazio il presidente di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti Piero Giunta per Radio Dimensione Musica